Ragazzi finalmente ci siamo, credo, la piccola, finalmente il primo è nato, guardate, il primo canarino, in giornata dovrebbero nascere gli altri due, non so se riuscite a vedere il primo canarino nato. E finalmente la prima schiusa, a breve dovrebbero nascere gli altri due, seguiamo, come vi dicevo, il cibo, stiamo provando, è un cibo che sembra anche appena imbeccato, il cibo è questo, proviamo quest'anno con questo, questa parte di riproduzione e vediamo come va, seguiamo la crescita dei piccoli, seguiremo, seguiremo la cosa, vedremo comunque oggi in giornale dovrebbero nascere gli altri due perché abbiamo usato il metodo della sostituzione e quindi vedremo, ora aspettiamo che la mamma vada sul nido e proviamo a vedere se ci sarà anche un imbeccato, proviamo a vedere, questo è il metodo che usano gli spagnoli, due canarine femmine, anche la seconda ha iniziato al nido, ora ve lo mostro, ha iniziato a costruire il suo bel nido, guardate, guardate che bello, papà e mamma che si imbeccano, vediamo se riusciamo a vedere se la madre, ecco, ecco la madre che va sul nido e con questo breve video ci aggiorniamo alla prossima, buona giornata amici!